Missione compiuta per gli azzurrini del CT Paolo Nicolato, agli europei Under 21 l'Italia rifila un bel poker alla Slovenia e vola ai quarti di finale del torneo. Cutrone e compagni con questo 4 a 0 chiudono la fase a Gironi alle spalle della Spagna e prolungano la loro avventura in questa competizione che si sta svolgendo in Ungheria e Slovenia. Liberici battono la Repubblica cieca e si prendono il primato nel gruppo con 7 punti, Italia a seconda con 5. Contro la compagine di una delle due nazioni ospitanti segnano Maggiore Crespadori e Cutrone autore di una doppietta, peraltro l'ex attaccante del Milan fallisce anche un calcio di rigore. La squadra di Nicolato passa in vantaggio al decimo con Maggiore. Trascorrono altri dieci minuti ed era Spadori imbeccato da Ranieri a raddoppiare al venticinquesimo. Cutrone realizza dagli undici metri e cala i tris. Rigole concesso per fallo di Karic su Frattesi al quarantaquattresimo, l'attaccante del Valencia, sempre dal dischetto, si fa ipnotizzare dal portiere. L'appuntamento con la doppietta è solo rimandato, arriva a inizio ripresa, gran botta di Cutrone da fuori area e palla sotto la traversa. Gli azzurrini chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Marchizza all'ottantaduesimo, doppio giallo per lui. Ora bisogna attendere le altre sfide finale dei Gironi per conoscere l'avversario dell'Italia. Intanto appuntamento ai guardi di finale del 31 maggio prossimo.